Il 2015 per la CGL di Augusta, che anno è stato? Non possiamo dire che è un anno positivo, basta sapere i numeri che ci sono ad Augusta. 7.000 disoccupati, nemmeno il lavoro nero, i giovani da 18 ai 35 anni che non lavorano. E tante tante sono gente che non ha mai lavorato. Sarebbe opportuno che questa città, o gli amministratori, il Consiglio Comunale, si dia da fare, di trovare qualche strada, qualcosa per sbloccare almeno alcuni lavori. Penso che il nuovo segretario Massimo, adesso lui che prenderà posizione come si deve, illustrerà alcuni problemi della città, che l'ho messo a conoscenza, e di agire assieme, perché per me c'è la collaborazione totale al segretario per quello che lui fa. Perché anche se mi dedica allo SPI, mi dedica ai pensionati anziani e disabili, ma lui troverà da me sempre una spalla, da una mano, apporterà ai problemi di questa città. Massimo Arena, da pochi mesi insediatosi alla guida della Camera del Lavoro di Augusta. Si è reso conto di quali sono le aspettative, soprattutto dei più giovani, in cerca della prima occupazione. In questo senso lei si è reso promotore di un'iniziativa, un incontro con gli amministratori per quel famoso protocollo di intesa sottoscritto lo scorso anno con le organizzazioni sindacali. Sì, purtroppo devo dire che ancora sono in attesa di una convocazione, perché l'amministrazione è impegnata a fare altro, seppur importante. Io proprio per questo voglio condividere con Carmelo che è necessario che l'amministrazione ci risponda su tante questioni che avremmo da proporre, nell'ambito economico-sociale. E assieme all'amministrazione io ritengo che i consiglieri comunali, prima, e anche i deputati regionali e nazionali debbano condividere, magari intestarsi, una vera battaglia per il riscatto di Augusta. I numeri di cui si parlava sono davvero terribili, 7.000 disoccupati, di cui il 30% circa riguarda i giovani da 18 ai 35 anni. Una cosa davvero tremenda, non c'è settore che non è in crisi, l'edilizia, la chimica, i precari del comune, insomma ci sono tante partite da affrontare per le quali noi già stiamo elaborando delle proposte. Siamo in attesa e incalzeremo ancora il comune affinché con noi, anzi con il nostro supporto e con chi vorrà, con i politici, possiamo elaborare delle proposte concrete, anche e soprattutto nella misura di coloro che da tempo rappresentiamo. Il lavoro è tanto, il percorso che vedo è davvero difficoltoso, faticoso e lungo, però chi è più vicino a me sa che dobbiamo aspettare l'anno 2016 con grande energia. Infatti voglio piuttosto che augurare quest'anno, voglio davvero sperare che ci sia una vera opportunità per Augusta da costruire, con le organizzazioni sindacali e che aspetto davvero che l'amministrazione dia la disponibilità ad incontrarci. Grazie a tutti.